Pronto? Ciao Fra! Ma domani comincio a scuola, allora, alle 10 e mezza, tocca stare alle 10 e mezza. Allora niente, vabbè, alle 10 e mezza è là, vabbè, ti accompagni della scuola, vabbè, ciao! Porco tu che raga, domani comincio a scuola, e boh, e boh, questo è, ma è che te va! Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo video, Federico Pedrini, la leggenda o anche chiamato FedEx of YouTube, è pronto per augurarvi un inizio di scuola. con i fiocchi se ahahah non ti piace? no è bravo Federico manda questa cazzo questa sigla guarda ma io non ho la sigla sono 21 anni sono due anni che facciamo i video su youtube e ancora non abbiamo capito che Pedrini Federico non c'è la sigla per youtube non è manco per facebook non è manco per instagram non è manco per telegram non è manco per twitter whatsapp zusk no raga oggi in questo video parliamo parliamo si che fra poco termine di compleanno il 22 settembre compio ho i 18 anni e divento maggiore macchine fumo alcool amsterdam un poche parole 18 anni uguale amsterdam sto arrivando se anche tu ci hai 18 anni come me ti piace bere fumare guidare e goderti la vita allora prendi il tuo smartphone vai su youtube cercami fede fede off off youtube fede o youtube e iscriviti al mio canale oggi parliamo della scuola sta per ricominciare e so che tutti diranno fede ma la scuola è brutta la scuola non è brutta perché ci serve non voglio fare il fisico fisiologo come dice la fisica il patto fisico vabbè non lo voglio fare non la scuola sempre perché i barboni voi qui avranno studiato ma avranno studiato a fare o paghiaccio o paghiaccio io ho conosciuto un barbone all'ospedale dove stavo io e mi faceva ridere ma io gli dicevo Giacomo ma perché non studi non ti prendi un bel attestato e fai a lavorare in fabbrica almeno guadagni i soldi e cambi dentro una casa non sotto un ponte dove provi la malaria e mori però questo Giacomo sta a Roma verso Euro verso Abisana nelle parti di là e vabbè perché la scuola serve ragazzi la scuola serve non voglio fare quindi la scuola serve moltissimo e se questo video arriva a 30 mi piace mi prometto mi faccio mi faccio un tatuaggio qua o qua dicete voi passate questo video a 30 mi piace e comunque ragazzi questo sarà un po' lungo di perché è un giorno veramente speciale per me perché non ho in non ho in scuola e oggi devo andare a prendere i libri e oggi devo andare a prendere i libri 5 lette a un piacere sono B L A M F vi dirò i motivi domani nel prossimo video mattina quindi noi ci becchiamo domani con un nuovissimo video bella a tutti bella gente bella zio ciao buon best ricordati di iscrivervi al canale Arcagni Arcagni veniva da prima lì